tutto raga attenzione che è questo qua sento john francese dice signori Kimpembe Kimpembe eccolo Kimpembe vamos vamos subito maestro maestro giù il cappello giù il cappello per i maestri giù il cappello luca giù il cappello per i miticon Kimpembe signori mamma mia eccolo ragazzi stanno oh sento john polacco shesney shesney eccolo lì il codice fiscale signori regali il pacco no devi comprarlo sarà acquistabile sento john spagna no guagin guagin subito eccolo eccolo ragazzi guagin proprio lui signori proprio lui e tons erbic e tons picchetto icona baby o blank caruccio e drogba shesney cien drogba attenzione e sien altro piccata corsa beh gli abbasso tutto ma sì ma forza che cos'è 90 di difesa è mai lento il terzo è carino col il mitico cos attenzione ci metto un po per caricare ok bacio tro picca però vuole nascondino vai potete andare signori potete andare attenzione allora abbiamo 90 di passaggio il primo è il potrebbe essere bello godurioso potrebbe il terzo va persi eh prendere zola però prendere zola va persi ma prendiamo vediamo cosa riusciamo a trovare beh un bel cantonale apsolino un bel cantonale apsolino un bel ma pure un bello caffù no peccato cannavaro eh mi sai qua ti prende cannavaro ti prende il buon cannavaro no ma premi per i nostri centurion vediamo chi riusciamo a trovare vai si parte subito a snack vabbè questi qua non ci interessano vabbè intanto overgrado ce lo prendiamo cerchiamo di trovare subito i nostri centurion facile facile ma utorres va bene tanto questi ragazzi andano tutti nel builder tutti quanti ehi tutti altri me li ha dati vediamo un po vediamo un po se esce qualcuno vabbè la font 84 ci posso pure mezzo stare neanche malissimo neanche malissimo covacici vabbè dai potete stuccare easy facile facile ma lo che busta raga mamma mia mamma mia no if peccato peccato portiere assolutamente lui il buon la font non è centurion non ci credo peccato portiere terstegen terstegen signori ma no bugia l'abbiamo trovato è il buon nehaus eccolo qua ragazzi beh 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 no cosa esce certo che un bel centurion coloso ma lo potevi anche mezzo troppare oh go toa bella roba beh dimmi che c'era scambiabile nooo ciao ciao ciao